manda col paese fai così manda col paese con il turno bene così fai passare davanti Nicolò e tu chiedi la mano sulla spalla Zammarco e no occhio rallenta un po' tu seguite, tu seguite avanti avanti sempre vai, vai vai, vai guarda con due mani oh guarda con due mani 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 Grazie a tutti